Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati sopra Omnia versione global. Ci troviamo nella nuova modalità delle Six Warrior Quest per vedere come ho affrontato e superato il primo stage. Ovviamente ho voluto esagerare di proposito con le Force presenti nei team, diciamo che volevo divertirmi un po' insomma. E sicuramente in futuro ripeterò lo stage per modificare il tutto, ma andiamolo a vedere nel dettaglio. Il primo team è composto da Laguna, Penelo e Kamlanaut, mentre il cambio è composto da Squall, Braska e Kane con la summon di Pandemon. Ci troviamo ad affrontare uno stage semplicissimo da gestire, purché abbiamo a nostra disposizione degli attacchi di elemento gelo tramite un personaggio o comunque tramite una collability. E questi attacchi di elemento gelo ci servono semplicemente per evitare morte certa data dalla tartaruga incazzosa. Kane e Kamlanaut assieme sono devastanti e se gli andiamo ad aggiungere un buon DPS, beh i danni ad effettuati in Force sono tanti. Come detto questo è uno stage semplicissimo che abbiamo superato in 19 turni senza subire il KO, senza subire danno HP e con uno score quasi di 2 milioni. Come sempre fatemi sap come avete affrontato voi questo stage e lasciate like per supportare il canale. Detto ciò vi auguro una buona visione. Come sempre fatemi sapere. Come sempre fatemi sapere. Come sempre fatemi sapere. Sì, non è vero. Alla prossima! Perciò che c'è l'ultimo perciò che c'è l'ultimo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti